Musica Questa cabocca in sardimissione al desu sindico Andrea Sordu e su voto contrario desu cussizio a su bilancio de previsione su cussizio comunale de Erisi como at arribare su commissario pro approvare su bilancio a arribare a sa selezione desannu chi veniti Noi sti sta uno cussizio sereno, maggioranza e opposizione si su un'accusa usa pare gettandisi lor de palincordo, vallimento, ritardo strassas e mudamento or de banda politica Deo io è cominciato una campagna elettorale chieta a te per fa che so scontos che su chi stessi o appizzo da ecus su che spassi o pruso o un regolamento decontoso che no uno dibattito serio e profettoso pro garantir uno benidore politico a sa città de denugoro A sas accusa orde sas opposizione s'andrea sorda a risposto mentovando un udi su a sarvo riruttu cada uno li crompete sottolineando e chino irzusta all'accusare di aver fatto tutta sasola catottus as azione il mandato s'addennantes incustosano orla s'ha fatta schingiunte cussizio sempre spessandola su bene desa cittade ed è commissuso un po' de zirara conca harta bragheri chintottus prosutra balluvattu chincusenze e contipizu Procrasis previdi una conferenza prosimprenda desor gruppos politico orde opposizione Mancana 22 ardiesa sa selezione esamministrativa schiana interessare 27 comuni sardos intreso scala erbisuno vinza scastello e tattari in castello usa campagna elettorale estinsa menzur violera chinkimbe candidausa sindico Alessandra Zedda chinkin su centrodestra Massimo Zedda chinkin su centrosinistra Emanuele Corda chinkin alternativa Giuseppe Varis chinkin civica 2024 e Claudia Orto chinkin cagliari popolare alternativa di classe Sa chircadora de linguistica inglese in su universidade de Castello e giornalista pubblicista vala tin camp a postir desess candidata dos annorfa che tassas politicas che in unione popolare in su collegio uninominale Sassessora era una proroga era una proroga dei due a schida da esuministeru proelaborare sul documento scoglioso in suos uffici orde Ares e desas aziendas sanitarias localese Bartolazzi affinza ad Aua e schiri a so sindaca orde esorduttore orde base che attacca a causa a manera ad esorbe il suo problema a desa mancanza dei professionisti ardesà medicina generale in Sardigna Sassessore suttalini attacchi proesorduttore scontinentale spruzzovano orde 33 e 30 a chimbannoso in peso vormaoso a si specializzare in Sardigna a diventare un obiettivo che in simpino desichire le esperienze dei traballi in Sardigna su manco proesutem pur necessario in questa manera si diana incurziare sa l'istar dei Zettu caso spaziente schiana bisogno di una visita cardiologica o di un elettrocardiogramma non è si spruzco strint ad andare a si spidale ma poter andare a suduttore questo manzano usa camera del commercio di Nugoro che in sa collaborazione del confcommercio e FIMA a Sardegna ha organizzato in Sardegna su convegno antiriciclaggio nuove disposizioni europee sulle case grine responsabilità del mediatore su tema vita fortiare sa scompetenze ardesosa agentesi immobiliare sardoso propoder decidere in sa menzo urmanera sa gestione di su traballi soro e negoziare che in profetto che in istituzione se forza ardesordine in sa operazione finanziaria sa finza spessanda su rispetto desa legalidade fondamentale in santi riciclaggio sa attividade desa guardia di finanzia non pezzi preso reato amministrativo sprulepioso ma per i proverguari su pericolo d'infiltrazione scriminale sin su mercato immobiliare Prantamu subenidore sa dobiu vattu custo manzano in si scola media san donato de tattari che rappresenta unu passadennantes in sa promozione des educazione ambientale in sa pratica desu metodo montessori sa cortevrorie e ideade finanziada desu garden club de tattari prososi studentes sa ta esser unu locu decreschida unu trettu birde in scola che ad diventare un'area dei studi unu locu prestare paris e facher attività des prosi spassiare si istituto de carrera bustiano usate su uniche in sardigna a mandare ad ain nantes sperimentazione desu metodo montessori mostrando un impinno umano prodare un'educazione anno ad ora e cara subenidore